Gli ospiti ci vedranno insieme già da adesso e faccio un attimo di presentazione e poi continui. Va bene, va bene, va bene. Io vado live adesso. No, non ho ancora, adesso sto cliccando live. Dal vivo, come nei concerti di Vasco Rossi. Ok, ci siamo. Ma tu riesci a vedere le persone che si collegano? Non ti sento. Hai il microfono chiuso. Non ti sento. Hai il microfono chiuso. Va bene, però... Senti, secondo me va rimandata questa cosa. Cioè, non possiamo... Allora, sì, mi sente. Io non ti sento al video. Ti sento qui al telefono, ma al video non ti sento. Parla. Allora, aspettiamo... Adesso ti sento. Ti sento al telefono. ...che si stanno connettendo a questo secondo appuntamento con Censurami. Abbiamo iniziato la scorsa settimana con il primo appuntamento con il professor Giacitorio. Antonio, che vedete qui con me... Vabbè, però... ...sì, la vediamo benissimo. ...la vediamo benissimo. Adesso le persone si stanno collegando. Esattamente. Stavo dicendo che abbiamo... Abbiamo concluso il primo appuntamento... ...il problema con il Wi-Fi, però lei si vuole in sicure perché la sentono benissimo. Ma a me mi sentono benissimo. Eh no, perché io ti sento a scatti. La tua voce si senta a scatti. Il mio microfono è aperto e gli utenti ci stanno... Però la tua voce arriva a scatti, non arriva a fluente. Cioè le parole sono spezzate, quindi vabbè, insomma, c'è qualche problema della connessione con Irene. No, no, ma gli ospiti ci stanno sentendo, tranquillamente. Ok, quindi siccome pare che io mi senta bene, che mi sentite bene, mi senta bene, insomma, se sto bene di salute. Comunque, visto che sentite bene la mia voce, mi confermate, allora io inizio questa seconda parte. Ci eravamo lasciati la volta scorsa, ci eravamo concentrati soprattutto sull'antico. Abbiamo fatto alcuni esempi storici molto importanti. Ricordo, appunto, il giudizio universale di Michelangelo, a cui inserono le braghe, di cui abbiamo ancora una testimonianza di una parte che è rimasta ancora non restaurata, come la parte di San Biagio e Santa Caterina, insomma. Adesso io andrei però intendo a condividere le immagini. Quindi, con questa seconda parte, vi chiedo un attimo di pazienza. Ecco, mi confermate che si vede l'immagine? Mi confermate? Qualcuno mi conferma che si vedono le immagini? O no? Nessuno mi conferma? Io però non riesco a vedere. Si vede un quadrato nero e basta. Perché si sta caricando probabilmente. Credo che ci sia un problema di connessione. Non so se riusciamo a fare questa diretta questa sera. Mi confermate che le immagini si vedono? Pronto? C'è qualcuno in grado di confermarmi che si vedono le immagini? Si vede e si sente? Ma mi sentite? Va bene, quindi adesso cominciamo con questo che chiamiamo intermezzo canoviano, perché appunto questa conferenza, come dicevo l'altra volta, queste due conferenze sono nate dal fatto che ci sono state delle opere di Canova che sono state censurate lo scorso anno e quindi con grande sorpresa di tutti e poi non è la prima volta ma continuano ancora a essere censurate dai social tipo Facebook, Instagram, insomma quindi c'è un problema di censura mediatica dei social network. Però facendo questa conferenza, parlando con Irene Longo che mi ha invitato a tenere questa conferenza sulla censura, ho scoperto una cosa che non sapevo ma che lei ha studiato e la ringrazio di questo bel invito ma anche appunto di queste nuove informazioni sempre su Canova faccio vedere delle immagini questa volta si tratta non delle sculture ma si tratta delle incisioni fatte da Canova nel senso disegnate da Canova il disegno al suo inciso sulle lastre di rame e poi ovviamente stampate da uno stampatore e qui vediamo per esempio Le Tre Grazie che tratta una opera che è stata già oggetto di censura una delle opere che è stata oggetto di censura non diciamo l'incisione ma i gessi appunto su Facebook da cui nasce questa conferenza e tanto altro e queste Tre Grazie questa incisione Canova ne aveva fatte 167 e poi nel 1827 il fratello dopo la morte di Canova Canova morre nel 1822 nel 1827 il fratello lo vende alla calcografia apostolica del Vaticano e quindi passa nelle mani di proprietà della Chiesa e qua vediamo come successivamente queste lastre alcune vengono addirittura distrutte alcune invece vengono reincise sopra ridisegnate e come vedete le stesse immagini di prima le troviamo ma non con una lastra diversa questi veli vengono questi panneggi vengono incise disegnate sulla lastra originale e quindi oggi non possiamo più volendo ristampare come queste immagini diciamo originale ma solo in questo in questo modo e questo è sotto il papadolo pontificato appunto di Lone XII e vediamo appunto che è una censura tipo quella ha portata a Michelangelo che appunto in cui da Volterra mise su ordine di più o quarto le le braga le mutande le sculture le pitture ai nudi classici di di Michelangelo e qua appunto questa è un potremmo dire vedete una incisione senza veli questo invece appunto è un'incisione a cui sono state aggiunte dei veli come a voler nascondere poi insomma è un nascondere per modo di dire perché come vedete si vede ancora praticamente tutti ma viene mantenuta anche una trasparenza quindi a volte non si capisce neanche la logica che porta a fare certe cose questo appunto e anche sui gessi qui vediamo sempre questo devo appunto alla chiacchierata con Irene Longo qua vediamo dei gessi della Gipsoteca che erano stati rovinati durante i bombardamenti del 1917 da parte dell'impero austro-ungarico e poi appunto dopo la la fine della guerra Stefano e Sirio Serafin che appunto si occupavano dei restauri della construzione della Gipsoteca praticamente risistemano questi questi gessi però adesso qua purtroppo abbiamo una foto che non si vede bene ma si vede meglio in quest'altra opera questo appunto è un per sé o trionfante questo invece appunto è una cosiddetta Morino Lubomirsky e qua vedete vengono ricostruite le parti che sono andate distrutte e poi come vedete gli viene messa la foglia di figo come anche al Prometeo e altre statue e quindi anche qui viene fatta un'operazione di censura di nascondimento non si capisce a quale scopo insomma allora adesso invece rientrando nelle divisioni di scorsi fatti già la volta scorsa che c'eravamo come dire concentrati soprattutto sul potere magico sul peccato religioso peccato magico peccato religioso abbiamo dato questo titolo peccato di novità alla conferenza perché si fosse messo in contatto solo da questa volta perché ci rifacciamo a una direttiva del concilio di Trento in cui viene appunto che viene fatta appunto dal 45 al 63 in cui viene appunto emanata tra le varie direttive quella del peccato di novità che voleva dire appunto che gli artisti si dovevano attenere alla tradizione non dovevano fare di testa loro innovare nelle immagini nelle pitture nelle sculture insomma nelle opere e quindi allora abbiamo intitolato questa diciamo ciclo di conferenze sulla censura peccato di novità e poi le abbiamo frammentate per vari peccati insomma però questi peccati che sono queste censure che vanno nel senso che sono anche come dire confinanti in molti casi no e poi come dice Volter è la caratteristica delle censure più rigide quella di dare credibilità alle opinioni che attacca è chiaro che su questi ci sono degli artisti anche che ci ne hanno fatto come dire anche un credo poetico del proprio lavoro di fare delle opere per farsi censurare e per far parlare di loro ma il problema è che non è che loro vogliono far parlare solo di loro loro vogliono mettere alla prova proprio finché noi possiamo l'artista può spostare un linguaggio può spostare una credenza può spostare un'affermazione valoriale insomma e via dicendo quindi qui siamo in queste cose politiche qua vi riconosciamo tre simboli quelle del comunismo quelle del fascismo e quelle del nazismo che sono state appunto come sappiamo tre dittature alcune dopo il comunismo 70 anni una ventina d'anni 21 il fascismo 12 anni il nazismo noi l'abbiamo messo sia vabbè perché mi ha portato delle forme di censura molto forti anche molto e c'è estese insomma che non riguardava un'opera specifica mettere un vela o un'opera o vietare un'opera ma vietare un tipo di arte un tipo di cultura un tipo di approccio al mondo che quindi è ancora più pesante e più forte la cosa però che è interessante anche oltre questo a ritenere questo discorso che noi facciamo che benché questi regimi sono diversi come diciamo appartenenza politica a livello di geometria destra sinistra in realtà noi andiamo a vedere che per quanto riguarda le arti visive e non solo anche altre cose praticamente hanno gli stessi gusti che sono i gusti che riguardano la classicità insomma essenzialmente adesso vi faccio vedere prima di arrivare in questo punto che stavo dicendo questa mostra che è una delle mostre sulla censura più totale che si chiama Intertete Kunst ed è una mostra che vuol dire arte degenerata che appunto è stata tenuta in Germania nel 36 il 37 promossa da Goebbels che era appunto Goebbels che era il ministro della cultura e della propaganda tenete presente come si mette insieme queste due parole la cultura e la propaganda perché la cultura e la propaganda insomma per i regimi totalitari di qualunque essi siano questa praticamente è una foto d'epoca questa fu fatta a Monaco all'Asderkuste e praticamente come vedete è una fila proprio come queste supermostre che si fanno oggi in cui c'è una questa è una mostra che fu visitata da 5-6 milioni di persone tanto per dire insomma la cosa qual era l'impianto di questa mostra l'impianto di questa mostra era di dimostrare che tutta l'arte d'avanguardia ma soprattutto l'arte espressionista che era quella tedesca ovviamente di matrice tedesca più forte venne requisita tutta l'arte d'avanguardia che erano appunto nelle collezioni pubbliche e venne esposta appunto nell'Aus del Kunst e come vedete un allestimento molto particolare cioè a livello formale l'allestimento è interessante cioè nel senso che poi questi regimi a livello formale erano molto attendi appunto alla propaganda e quindi a costruire le forme di persuasione insomma tra l'altro c'è un bellissimo saggio all'interno di un libro di Carlo Gisbur che si chiama Chiacci di Legno che è stato ripubblicato recentemente da Adelphi e che praticamente proprio analizza questo problema della persuasione dei regimi politici che sostituiscono questa idea della persuasione all'idea della costrizione cioè c'è una prima fase di costrizione e poi c'è una fase di persuasione attuata attraverso appunto la propaganda e che appunto qui vediamo ci sono delle frasi denigratorie insomma che in alcune altre immagini vedete qui per esempio c'è il dadaismo vedete Dada che era un'altra espressione d'arte contemporanea e aveva anche una parte molto forte in Germania soprattutto a Berlino poi per esempio in questo caso come vedete loro mettevano una comparazione in questo caso un'incisione di artisti espressionisti con fotografie appunto come vedete di persone che avevano delle menomazioni o perché per degli incidenti oppure perché erano nati insomma con delle mancanze e quindi come a dire vedete questi sono disegni fatti da persone inabili come sappiamo il dadaismo aveva tutta una teoria insomma anche frenologica sulla realtà insomma e questo e allora come lavorano appunto gli artisti diciamo più vicini a noi su queste problematiche qui appunto abbiamo un lavoro di Catalan che adesso è veramente abbastanza noto si chiama Him del 2001 e vediamo un bambino di spalle che viene presentato così rispetto all'ingresso inginocchiato come a pregare poi quando vai avanti e giri lo vedi nel volto ti prende appunto un pugno nello stomaco perché questo bambino praticamente è il terrafatto come bambino questo appunto è stato un lavoro che è stato molto dibattuto e anche censurato in alcuni casi in alcuni casi no e c'è appunto per esempio quando è stata esposta a Varsavia la Polonia è molto sensibile a questi temi diciamo non solo un tema come questo qua che riguarda il nazismo e la Polonia appunto è stata una delle nazioni che è stata più come dire distrutta invasa i campi di concentramento erano primariamente anche in Polonia insomma e così via ma anche per esempio con il Papa lo vediamo dopo di Catalan c'è stato appunto anche lì un grosso dibattito un tentativo di censura insomma così e quindi quando appunto questa opera è arrivata a Polonia in Polonia ci sono state tante polemiche e polemiche che hanno spaccato il mondo ebraico perché quelli che hanno reagito su questa opera era appunto è stato il mondo ebraico Efraim Zurov direttore del centro Simon Wiesenthal l'ha definito un affronto gratuito alla comunità ebraica in quanto insulta la memoria degli ebrei vittime del nazismo mentre per il rabbino capo della Polonia Michael Schudrich la statua messa nel ghetto perché poi lui l'ha esposto la prima volta questa l'ha fatto per una morte in Svezia e poi appunto ha girato in Italia è stata anche al museo di Rivoli e poi appunto quando l'ha esposto in Polonia ha pretensi che questa opera venisse esposta nel ghetto proprio degli ebrei quindi invece il rabbino Schudrich dice la statua messa nel ghetto può avere invece un valore educativo e Cattelan aggiunge se un'opera fatta più di 10 anni fa continua a far discutere significa che assolve ancora al suo compito questo appunto è la quelle che vi dicevo prima che conoscete la nona ora con Papa Vojtila che viene colpito dal meteorite e praticamente quando è stato portato in Polonia insomma qui ha suscitato molte polemiche anche in Italia a Palazzo a Palazzo Reale però anche qui diciamo il vicario episcopale di Milano che è stato appunto interpellato in quel giorno dalla stampa sollecitato dai giornali invece ha visto il lavoro in cioè non in modo negativo ma in modo positivo nel senso ha difeso quest'opera di Cattelan contro invece alcuni gruppi si scagliavano contro perché diceva che praticamente l'artista stava rappresentando le sofferenze del Papa per l'umanità che si faceva carico insomma dei peccati dell'umanità della sofferenza dell'umanità insomma di questo mondo che poi Cattelan ci lavora molto insomma sui messaggi religiosi questo lo conoscete tutti penso appunto sono i bambini imbiccati che fece appunto discutere molto insomma ed era fatta per la per la fondazione Trussardi allora era sindaco Albertini che intervistato disse temo un po' per il traffico un bellissimo esempio di cultura anticonformista che farà molto discutere quindi sottolineava il fatto della di un'opera come diceva Cattelan che fa discutere che fa parlare mentre Beatrice Trussardi che appunto è la presidenta della fondazione Trussardi vogliamo restituire i luoghi della città enfatizzandoli poi voi sapete che là c'era anche ci fu anche la storia di un signore che cercò di arrampicarsi che cadde e via dicendo insomma e l'artista dice quest'opera racconta l'attenzione che c'è nella realtà non vogliamo offendere nessuno e né irritare nessuno e Cattelan l'aveva montata come fosse appunto una crocifissione per far parlare di un problema scottante che ancora oggi è sul piatto insomma della realtà e quindi anche della discussione che è appunto la pedofilia e via dicendo sempre rimanendo all'interno del problema del materiale del nazismo qui abbiamo una Madonna di Raffaello citata che però invece di avere un bambino in braccia al piccolo Hitler appunto fatto da Giuseppe Veneziano che nonostante il cognome non è di Venezia ma è siciliano e lui ha anche altre opere che avevamo visto come il Cristo dell'Egitto che appunto gli era stato censurato e questo l'aveva presentato alla Fiera di Verona questo è invece una Madonna di Max Ernest che è uno dei massimi pittori nel novecento artista surrealista che fa appunto questa pittura raffaellesca la vediamo e lui si ispira a Raffaello soprattutto dalle aureole queste aureole sottili come le sapeva fare solo Raffaello in cui la Madonna viene vista come una mamma di una volta perché adesso i bambini non è che si possono scolacciare ma una volta lo scolacciamento era all'ordine del giorno e soprattutto ai tempi in cui lui dipinge questo quadro nel 1926 quindi ed è la Madonna che scolaccia Gesù Bambino osservata da gli amici di Max Ernest o Andre Betron il pittore stesso che si autoritrae questa è appunto un'altra immagine qui passiamo diciamo dall'ambito del nazismo all'ambito del comunismo la rivoluzione bolshevica a destra vediamo questo è interessante vedere come vengono le fotografie i film vedete come Lenin viene sempre rappresentato nei comizi che è sporto in obliquo sul palcoscenico queste erano delle direttive che venivano state insieme agli artisti quindi come fosse una posizione di un quadro costruttivista di un quadro suprematista perché Lenin comunque non vieterà l'arte da vanguardia l'appoggerà ne capisce l'importanza e Stalin successivamente che decretterà il realismo socialista nella cultura quindi nella pittura o nell'arte questo è appunto Malevich che appunto che quando arriva Stalin sia lui che altri gli viene impedito di fare appunto il tipo di opera suprematista questo è un famoso quadro opera fatta in trittico quadrato nero croce nera e cerchio nero e appunto Malevich lavorerà nella seconda fase in queste modalità con questi personaggi senza volte che sono soprattutto contadini e quindi comunque trova un modo per opporsi diciamo alla linea dominante uno socialmente con i personaggi che rappresenta perché l'ideologia del comunismo è l'ideologia dell'operaio infatti se noi vediamo poi tutta la la pittura diciamo realista socialista esalta la figura dell'operaio che è l'eroe insomma di questa nuova religione laica mentre i contadini vengono avversati perché gli viene additato il fatto di essere A conservatori B comunque di essere dei piccoli proprietari quindi di avere una proprietà privata che può essere anche un piccolo pezzo di terreno e quindi ci sono anche delle purghe proprio nei confronti dei contadini e mentre appunto Malevici con cui ha un rapporto molto molto stretto ama questa classe sociale rappresenta questi contadini come dei manichini vedete senza volto questo appiattimento e livellamento che dava appunto il comunismo ma lo rappresenta sempre su delle basi astratte cioè lui riesce a far sopravvivere comunque l'astrazione nel fondo come vedete e come si vede di più ancora in questa immagine perché tutte le opere di Malevici comprese quelle lì che abbiamo visto prima dei contadini a un certo punto vengono sequestrate e vengono messe nei magazzini del museo di Stato Russo di San Pietroburgo perché considerati non idonei alla linea del partito l'unico quadro che viene mantenuto esposto è quest'opera qui che si chiama Cavalleria Rossa del 32 e perché viene scambiato per un omaggio all'armata rossa che in realtà cosa che non voleva fare Magritte ma è un pretesto per continuare comunque a dipingere arte astratta perché qua questo è un quadro molto grande tipo tre metri e mezzo di lunghezza 1,80 2 metri di altezza e questa Cavalleria Rossa è proprio piccolissima sono come delle piccole virgole nell'orizzonte quindi gli artisti trovano sempre dei modi per e questo invece siamo nell'anni 70 in Unione Sovietica ancora in cui gli artisti comunque ne tengono Malevici come un punto di riferimento importante e le fanno in vari modi soprattutto con delle performance in campagna nei boschi perché non potevano fare questo tipo di arte alla luce del sole allora questo è il 71 praticamente sono un gruppo di artisti da cui si riconosce Kabakov Monastinsky questo è Kabakov con le quali a capote abbiamo Monastinsky e altri artisti che vanno a fare una mostra con delle azioni fuori mosca nella campagna come vedete per due motivi uno perché non potevano farlo appunto in città era pericoloso via dicendo due perché loro ritengono questo campo bianco di neve come il quadrato bianco di Malevici quindi come se loro stessero lavorando sull'eredità lasciata da Malevici con la sua arte suprematista in questo caso con il quadrato bianco su fondo bianco e a sinistra invece questo collettivo action che a Leningrado allora si chiamava Leningrado e si è tornato a chiamarsi San Pietroburgo che nel 1986 fanno questa performance riferita a questa seconda fase di Malevici anch'essa censurata come vedete vestendosi un po' come i quadri che abbiamo visto prima in maniera ironica qui siamo invece in Jugoslavia siamo sempre nel appunto quelle che una volta era il patto di Varsavia i cosiddetti paesi dell'est insomma no paesi dell'est perché comunque fanno parte sono paesi che vengono comunque che fanno parte e vengono percepiti come paesi dell'Europa e quindi sono ad est non sono a oriente ed ecco un'altra tipologia di lavoro su Hitler e qua è interessante perché questo gruppo che si chiama Irwin sono composto da cinque persone fanno questa fotografia un'opera d'arte in cui si ritraggono lo scatto è fatto da André Serrano un grande artista che abbiamo visto la volta scorsa quando abbiamo parlato dei crocifissi con il suo Piscrist e si fanno fotografare dietro c'è appunto come vedete un'architettura gotica che rimanda a quelle architetture che dipingevano gli acquarelli Hitler Hitler faceva questi acquarelli dove dipingeva architetture gotiche vedute classiche insomma e quindi e quindi si mettono dietro uno scenario di questo tipo no e poi loro si mettono sotto il naso quelle che sembrerebbe che sono dei baffi uno quando vede una cosa così sotto il naso ovviamente pensa a Hitler però loro vedete come si chiama il quadro il quadro si chiama il quadro l'opera il mistero del quadrato nero il quadrato nero è l'opera massima l'icona del ventesimo secolo l'opera stratta più importante insomma del ventesimo secolo è un'opera appunto di Malevich quindi giocano ironicamente con quest'idea con Hitler che censurava l'altra stratta l'arte d'avanguardia come a dire ma tu avevi quella donna sotto il naso e non te ne accorgevi neanche quindi hai una cosa sotto gli occhi e che non la vedi questa è sempre un'altra opera degli Irwin come vedete a sinistra che loro fanno per la giornata della gioventù e però utilizzano un'immagine nazista perché loro lavoravano proprio su questi meccanismi di smascheramento e di far vedere come una stessa immagine funziona per una due mondi che si presentano con due proposte politiche sociali opposte e allora questa a sinistra è un'immagine dell'epoca nazista con appunto questa figura classica la torcia in mano con questa asta con l'aquila eccetera loro prendono la stessa immagine praticamente gli cambiano mettono la bandiera iugoslava la colomba della pace al loro al posto dell'aquila e del simbolo della svasica non si vede ma comunque vi dovete credere sulla parola e poi con questa fiaccola ci mettono questo architetton che sono queste architetture progettate per lo spazio per il cosmo appunto da Malevich e la mandano a questo concorso perché allora c'era ancora un concorso per la giornata dell'aggiuntivo tutti gli artisti ma anche le persone normali potevano partecipare mandando un'immagine che poi veniva scelta quella che veniva ritenuta più interessante e poi veniva stampata migliaia di manifesti veniva mandata nelle scuole affisse nelle strade insomma e così via e loro vincono con questa immagine solo dopo che i manifesti erano stati stampati e erano anche stati inviati per essere affisse eccetera qualcuno si accorge da dove veniva questa immagine e quindi bloccano tutto questo va bene Tito questo per farvi vedere da sinistra abbiamo Dieneka che è uno dei maggiori artisti del realismo socialista poi abbiamo Sironi al centro e poi abbiamo Torak a destra ma come vedete lavorano tutti su una stessa idea della classicità romana greca ma soprattutto romana che ritengono un modello politico dei riferimenti c'è anche l'idea dell'impero insomma è come come dire questo poi cosa succede intanto succede che questi artisti che sono bravissimi poi finita la guerra verranno percepiti come appunto dei collaborazionisti non verrà guardato il proprio lavoro e quindi c'è come dire una sorta di censura visiva per cui questi artisti per decenni non verranno considerati come artisti interessanti invece poi man mano verranno riscoperti il caso di Sironi insomma in Italia è clatante qui siamo invece in un altro regime che è la Cina e siamo diciamo all'artista più censurato che è appunto a Weiwei che lui per esempio tiene un blog come proprio un'opera d'arte dal 2006 al 2009 quando al 2009 gli viene chiuso il blog e qui lui dice metto la mia 90% della mia energia in questo blog dove è un blog che lui fa arte discute posta messaggi fotografia video in cui critica appunto il governo cinese e questo è il motivo per cui appunto poi gli viene chiuso il blog lui diceva il mio blog è l'estensione del mio pensiero non lo posso cambiare anche perché io vivo essenzialmente sotto un governo in cui l'ideologia è contro l'umanità Hansel Riccobris che è uno dei maggiori critici curatori ha definito il direttore artistico della Serpentine di Londra ha definito il blog di Awewe come la più grande scultura sociale esistente uno dei motivi di discussione di dibattito di censura Awewe appunto come in questo caso questo è l'Haus del Cus di Monaco dove abbiamo visto prima la mostra di arte degenerata che è diventata uno dei luoghi espositivi di avanguardia appunto dopo la caduta del nazismo adesso è diretta da un da un italiano Andrea Lissoni che ha preso la direzione circa mezzo anno fa qualcosa così insomma qui siamo però nel 2009 in cui lui fa questa opera che si chiama 9000 ho vissuto felice su questa terra per sette anni questa è la scritta che c'è qui però questa scritta è fatta con 9000 zainetti di colori diversi che sono i zainetti dei bambini che sono stati che sono morti nel terremoto appunto in Cina perché le case erano fatte con materiale scadentissime le scuole e Huawei discute e posta parla molto di questa accusa appunto del governo e fa opere anche in questo senso come in questo caso questa è un'opera che probabilmente molti di voi hanno vista perché è un'opera che è stata presentata alla Biennale di Venezia dal 2013 sempre di Huawei si chiama sacred che vuol dire supper cena accuser accuse cleaning pulizia rituale entropia e dubbi le prigioni appunto questo si presentava nella chiesa di San Antonino uno entrava e vedeva questi cubi neri minimalisti questi paralel poi andava avanti c'erano questa specie appunto di scaletta di pedestale si saliva su e c'era un buco da cui si vedeva questo che vediamo qua vedete c'è Huawei che viene arrestato viene portato questa è a scala leggermente più piccola del posto dove Huawei viene tenuto prigioniere per tipo circa tre mesi nel 2011 da aprile a giugno provocando le proteste anche in tutto il mondo dell'arte però viene e non solo perché viene accusato di frode fiscali tipo un milione e mezzo circa di euro però si scatena una mobilitazione in tutto il mondo spontanea che in pochi giorni raccolgono molto di più di questi soldi che lui avrebbe dovuto pagare però ovviamente era un'accusa era un'accusa falsa e qui vedete c'è l'interrogatorio c'è la polizia mentre lui si fa la doccia lui fa questi manichini con questi soldati che praticamente questi soldati guardiani che lo guardavano 24 ore su 24 cioè quando dormiva qualunque cosa faceva lui aveva sempre questi due guardiani di fianco mentre dorme mentre mangia mentre in bagno si fa la doccia mentre eccetera eccetera quindi qui abbiamo dopo poi comunque lui viene liberato viene scarcerato però viene messo agli arresti domiciliari e poi nel 2015 gli vengono tolti gli arresti domiciliari e lui qui mostra il passaporto che gli era stato appunto restituito ma mostra anche le cimici che lui ha trovato nascosti dentro il suo studio dentro la sua casa studio e nel 2015 poi lui fa questa mostra a Londra alla Tate modern in cui appunto nella Turbinola con questi tipo 100 milioni di semi di girasole che rappresenta il popolo cinese che però questi semi di girasole non sono semi veri ma sono fatti tutti di ceramica nella dimensione del semi di girasole ceramica che poi diventa uno a uno a mano da più di mille ceramisti insomma cinesi però il poi c'è la regola dell'academy che gli detena la trospettiva ma il governo inglese non gli vuole dare il visto per andare appunto a allestire la mostra eccetera eccetera e anche lì perché appunto i governi come sappiamo hanno molto paura della Cina non tanto solo politicamente ma perché è un colosso economico con cui tutti hanno interesse con cui tutti vogliono fare affare e quindi alla fine gli hanno dato un visto turistico di pochi mesi questa è Huawei che mentre stava in agli arresti domiciliari a un certo punto in questa immagine che vedete in atto a sinistra comunque non so come se voi lo vedete rovesciato comunque dove c'è lui da solo e c'è queste manette ai polsi e balla sotto la musica del Gum Gum Style questa canzone che è virale che era i social in quegli anni e poi gli risponde all'immagine di destra dopo qualche qualche mese Anish Kapoor artista indiano di origine indiana ma naturalizzato in inglese vive a Londra oramai da 30 40 anni che organizza nel suo studio un gruppo di persone che erano tipo un centinaio lui è questo con la camicia rosa si mette perché Awewe aveva la maglietta rosa nel suo video e praticamente invita direttori musei critici curatori e altri artisti con tutta una serie di scritte anche sulle pareti a ballare questo Gum Gum Style in omaggio appunto in difesa di Awewe che era ancora gli arresti domiciliari qui lo vediamo invece un'immagine sotto nel 2015 nel 18 settembre in cui a destra vediamo con gli occhiali Capurra a sinistra vediamo Awewe con queste coperte che fanno una camminata di 8 miglie di 8 miglia e poi seguita da una specie di processione diciamo di corteo in favore dei popoli dei migranti insomma per sostenere questo problema della della migrazione che che noi stiamo affrontando poi nel 2015 sempre Awewe vuole fare una grossa scultura gigantesca con i Lego e scrive alla Lego se gli dà questi questi mattoncini Lego e la Lego gli risponde che non gli li dà perché loro non fanno non partecipano a azioni politiche perché tutti ormai pensano che se tu fai qualcosa con Awewe dichiara un'appartenenza politica lo sostieni anche politicamente l'artista ha dichiarato che era stato si è sentito discriminato e la rete non l'artista la rete ha risposto creando un hashtag Lego Forever Way tramite cui gli utenti potevano mandare poi i mattoncini e anche lì come per la raccolta dei soldi che fu spontanea praticamente sono arrivati centinaia di migliaia di pezzi a Awewe per fare questa scultura intanto nel frattempo lui aveva postato questa immagine che vedete qui a Awewe hashtag 2015 in cui c'è appunto un water rifacente Duchamp all'orinatorio perché vedete è firmato R.Muth 2015 come l'orinatorio di Duchamp che è firmato R.Muth 2017 e la calligrafia lui ha copiato di Duchamp e questo sembra questo invece Capore che non si aspetterebbe neanche che uno censura una scultura di Capore perché è talmente formale formalista il lavoro di Capore insomma nel senso ma non in senso negativo che non è che contiene contenuti politici religiosi insomma così solo che questa era appunto nella regia di Versailles nel parco di Versailles siamo nel 2015 questo è un titolo che si chiama Queen's Vagina di Hirti Corner e formalmente è un'opera tipica insomma di questo artista ed è stata in Bratt dunque ci manca è saltata un'immagine ma comunque tipo alcuni giorni dopo sono scomparse delle scritte perché poi le censure possono avvenire in tantissimi ovviamente in tantissimi modi cioè non è che ci deve essere un potere politico religioso hanno delle persone per conto loro delle associazioni insomma e questo appunto sono state fatte tutta una serie di scritte inneggiando contro l'artista ma anche contro gli ebrei contro i neri cioè cose che non c'entravano cioè non bisognerebbe farlo comunque mai però questo non è che stava parlando di queste tecnie quindi però ci sono dei gruppi che non perdono occasione per avere una visibilità parlando appunto di queste problematiche allora la prima volta è stato restaurato poi la seconda volta è questo nel senso che una volta restaurato qualche settimana dopo di nuovo hanno fatto dei graffiti con delle scritte offensive eccetera eccetera allora l'artista aveva deciso di lasciarlo stare come un segno della storia però siccome conteniamo queste frasi offensive contro delle etnie tipo ebrei e nere e via dicendo il giudice l'ha intimato che doveva rimuovere doveva essere giustamente insomma rimosso questa è una cosa molto vicina a noi è un'immagine del manifesto fatta da la lì c'era Queen's Vagina questa è Queen's Performance Marina Brown che è una delle più grandi artisti performer vivente anzi è la regina della performance appunto denominata che viene chiamata nel 2018 per fare il manifesto della Barcolana di Trieste questa manifestazione popolare insomma mi pare nel mese di settembre e lei fa questo manifesto in cui l'impianto ricorda appunto la tradizione dei paesi dell'est dell'arte astratta il costruttivismo il suprematismo e così via dove c'è l'artista stesso che tiene in mano una bandiera in cui we are all in the same boat che ti vuol dire siamo tutti nella stessa barca nel senso che da un lato è una anche una frase ironica se vogliamo perché la Barcolana una regata di barca una manifestazione di barche siamo tutti nella stessa barca ma lei faceva riferimento molto forte proprio alle barche non tanto della manifestazione della Barcolana che prendeva pretese ma delle barche che dei migranti insomma che arrivano in occidente dicendo appunto siamo tutti nella stessa barca quindi dobbiamo cercare di aiutarci a vicenda e questo appunto è un manifesto che ha fatto discutere molto che fu censurato dal comune di Trieste come sapete qui abbiamo invece siamo in Ucraina e siamo e qui a sinistra c'è questa immagine di questi combattenti ribelli siamo appunto nel 2015 in questo caso c'era appunto Pasquale Martintayou un artista camerunense che fa questo monumento ieri era poi nella giornata della violenza sulle donne fa questo monumento sulla ciminiere di questa fabbrica che vedete qui dietro nell'immagine anche di destra sulla sinistra lontano è un monumento alle donne alle donne di Donets che è questo posto dove questa cittadina dove questa fabbrica che praticamente hanno appunto aiutato la resistenza hanno lavorato alla ricostruzione della città dopo appunto la seconda guerra mondiale quindi un monumento per sottolineare l'importanza della donna che questi ribelli invece poi hanno fatto qui una scultura che hanno fatto saltare qui siamo invece a Milano e siamo nel 95 quindi molto 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 prima come vedete non sto andando per una cronologia andiamo un po' così random per fare degli esempi questo era sindaco della Lega non mi ricordo come si chiama adesso ma comunque mi tornerò in mente che aveva nominato appunto assessore della cultura D'Averio poi D'Averio non poteva farlo più non mi ricordo cosa era successo e nominarono Italo Rota e Italo Rota ebbe la idea di commissionare a Luigi Ontani una nuova mascotte per rappresentarsi Milano penso a Milano penso al Duomo penso al Biscione penso alla Madonnina insomma e lui chiama Ontani che Ontani propose questa scultura in ceramica da cui poi doveva derivare spillette gadget vari insomma secondo l'idea di Italo Rota anzi no D'Averio era ancora assessore di Italo Rota era assessore alla qualità urbana al turismo cose di questo tipo e Ontani propose questa scultura un'altra tipo mezzo metro in ceramica in cui c'è sempre la sua faccia il suo volto come si mette in tutte le opere e poi ci sono sempre delle situazioni luoghi comuni insomma di cui lui si serve sempre allora qua vediamo che c'è la zamba della scrofalanuta che è praticamente il simbolo di Milano prima ancora del Biscione poi c'è vedete in mano nella mano sinistra c'è l'uovo di Piero della Francesca della pala appunto di Brera poi nell'altra mano c'è i promessi sposi poi vedete sul petto c'è una sorta di gilet che però è la scala è l'interno della scala poi c'è la faccia con la barba di Leonardo poi in testa c'è il panettone e poi sopra il panettone c'è la merda d'artista di Manzoni allora questa qui face scoppiare uno scandalo nel consiglio comunale che era appunto allora il comune era retto dalla Lega come si chiama lo sindaco della Lega adesso non mi ricordo di Milano e quindi lui poi si dovette dimettere però prima di dimettersi ebbe anche l'idea di mettere questa scultura in una scatola di plexigas e di esporla a corso Buenos Aires mettendo delle urne per in modo che i cittadini potessero votare se gli piaceva questa opera o meno allora mediaticamente fu una mossa ovviamente intelligente però praticamente una mossa molto perdente perché praticamente l'80-90% delle risposte che furono messe in queste onde erano contro questa scultura insomma che si sentivano offese eccetera ma ecco dov'è questa qui è la scultura di Capur di cui parlavo prima che è stata appunto imbrattata con le scritte prima senza scritte poi anche con le scritte come vedete però ne abbiamo parlato adesso qui siamo nella manifestazione nel 2017 una manifestazione più importante di arte che è la documenta di Cassel che è una manifestazione tipo l'abbiennale di Venezia che si fa per ogni cinque anni e da alcuni viene percepita come più importante ancora dell'abbiennale di Venezia questa è un'opera di Oluo Guibe che è un artista e un curatore nigeriano che ha proposto questo monumento per la piazza centrale di Cassel la Konigplatz la piazza reale un obelisco con scritto sulle varie sulle varie parti delle quattro facciate in quattro lingue in tedesco inglese arabo e turco allora il tedesco per il tedesco il turco perché diciamo l'ettinia più grossa dopo quella tedesca l'arabo appunto per il mondo arabo e l'inglese che è la lingua franca dell'arte insomma internazionale e così dicendo e questa è una frase che lui ha appresa dal Vangelo di Matteo ero straniero e mi avete accolta I was stranger and you took me in e anche qui è successo che ci sono stati gruppi di estrema destra che hanno criticato criticato l'Alternative for Deutschland che è questo appunto partito di estrema destra e hanno appunto cercato di bloccare hanno lottato per far rimuovere questa opera quindi l'opera è stata bloccata c'è stato un processo è rimasto lì per due anni e poi si sono messi alla fine d'accordo che questa andasse in un altro luogo insieme alla città quindi non è stata rimossa completamente alla Treppenstrasse che è una delle stati comunque più trafficate in cui c'è più gente insomma della cittadina questo è stato invece lo scorso anno alla Biennale alla Triennale di Milano che è un'opera di Daniel Gonzales un artista argentino mi casa tu casa che praticamente ha fatto come fa lui queste case questi ambienti raccogliendo diciamo rifiuti dappertutto come rappresentazione del padiglione di Haiti e lì dopo appunto quando diciamo i responsabili del Consolato hanno visto questa opera praticamente hanno fatto di tutto perché questa opera appunto venisse rimossa perché praticamente la ritenevano come un'offesa al al popolo di Haiti insomma perché appunto offensiva e quindi hanno fatto chiudere insomma questa questa opera la Triennale pur riconoscendo il valore artistico e giudicando il terreno dell'installazione coerente col tema della ventiduesima Triennale che era questa mostra che curava Palantonelli che è una curatrice del design italiano che è però senior curatrice curatore del MoMA di New York la sezione del design e architettura si attiene alla disposizione insomma della diplomazia questo riguarda invece sempre l'anno scorso un'opera esposta nella Biennale di Hachi in Giappone in cui questi artisti coreani Kim Se-Yung e Kim E-Hung-Soon avevano praticamente esposto questa opera che rappresenta quelle che vengono chiamate le comfort women cioè queste donne asiatiche soprattutto coreane e anche cinesi che furono mandate durante la seconda guerra mondiale appunto in Giappone per soddisfare appunto le cattive voglie dei soldati giapponesi insomma quindi una cosa molto molto forte qui entriamo in una invece in una zona quella diciamo dell'etnia questa qui è una sono delle opere alcune insomma trentina di opere che furono esposte appunto in questa festival dell'India a Zagarolo e questa è una mostra promossa dal Maxi credendo appunto con l'intenzione di fare un omaggio alla cultura indiana da parte appunto di un artista come Luigi Giuntani che fa dagli anni fino ai 60 inizio ai 70 lui lavora con l'India con viaggi continuamente in India insomma e queste sono delle foto fatte in India quella a destra quella a sinistra è fatta nella campagna di Bergato dove lui è nato però viva a Roma e sono foto accorrellate con una tecnica della fotografia indiana e questo dovette smontare la mostra perché appunto gli indiani si erano sentiti offensi da queste da queste opere quindi a volte ci sono entriamo in contatto con delle con dei popoli con delle culture che alcune cose per noi sembrano che vanno bene insomma le consideriamo arte insomma ci piacciono ci soddisfano su vari punti di vista invece altre culture che queste le trovano appunto offensiva qui abbiamo un fatto recente queste sono due opere di Philip Gaston un artista americano di cui abbiamo visto una bella mostra molto esaustiva nel 2017 durante la Biennale di Venezia evento collaterale in nelle gallerie dell'Accademia la mostra era curata da vari e anche da Pia Cappelli e adesso avevano organizzato questa mostra che si chiama Now adesso non è più Now appunto vuol dire ora è una mostra che girava dalla National Gallery of Art di Washington al Museum of Fine Art di Boston e poi doveva andare al Museum of Fine Art di Houston e poi dopo alla fine doveva appunto concludersi alla Tate Modern di Londra o London e sono tutti con on Washington Boston Houston London eccetera e solo che questi a un certo punto hanno visto questi quadri che come vedete sono questi del 69 sono quadri anche molto vecchi che si conoscono che però rappresentano ovviamente non dipinge solo questi tipi di quadri lo stile sì ma i soggetti sono anche molto diversi e qua rappresenta il Ku Klux Klan per esempio e quindi i curatori i direttori di questi musei si sono spaventati con l'aria che tira tutto il problema del razzismo insomma e via dicendo e quindi hanno cominciato a prendere le scuse a tergiversare poi hanno preso la scusa della pandemia ma in realtà adesso è stata rimandata al 2024 insomma per dire e quindi questo è un altro modo come questa qui invece rappresenta un caso molto interessante che è stato dibattuto tantissimo negli Stati Uniti in cui il problema razziale ovviamente è un problema molto forte molto sentito è un nervo scoperto più che in altre nazioni insomma in altri posti e questo è stato il successo con questo quadro che vedete in alto a sinistra di Dara Schutz Open Casket che è appunto una barra aperta vuol dire che rappresenta è Matt Hill che è questo bambino che vediamo sulla sinistra questo bel bambino nero e sulla destra come poi era stato ridotto perché lui era stato di Chicago per la famiglia l'estate l'aveva mandato in vacanza dai parenti a Money nella Pennsylvania e praticamente fu accusato di intendersela con una donna bianca e quindi lo preso lo picchiarono lo ammazzarono lo sfigurarono anche nel volto insomma lei appunto ha fatto questo quadro e questo che venne presentato alla biennale di Whitney dell'anno dopo insieme a altre sue opere insomma e opere appunto di altri artisti e quindi questo scatinò un putiferio soprattutto da parte delle comunità nera insomma per esempio l'artista una delle più critiche insomma le più agguerrite era questa Anna Black Black che artista scrittrice attivista insomma che appunto dice se l'intenzione di presentare la colpa dei bianchi tale colpa non è correttamente rappresentata dal quadro di un ragazzo nero morto dipinto da un artista bianco e chiede addirittura questa Black e altri che questo quadro venga distrutto e quindi mettendo come il quadro poi non è stato distrutto insomma comunque è stato un dibattito sui giornali sui media insomma eccetera questo quadro era stato presentato l'anno prima appunto nel 2006 quando era stato fatto in una mostra collettiva a Berlino dove nessuno appunto aveva detto aveva detto niente quindi dipende anche dai contesti dove vengono presentati questo sulla destra che vediamo questo è un quadro di Peter Bright confronting me on possible death questo è un quadro risultato di una sorta di performance perché in quei giorni praticamente Hugh Whitney era presidiato con manifestazioni anche fuori questo è un artista afroamericano che si è messo davanti a questo quadro per tutto il tempo dell'apertura in un giorno della mostra per non far vedere l'opera quindi una sorta di performance e dopo ha fatto un quadro come vedete qui che c'è scritto nella maglietta Black Death la morte dei neri non è qualcosa che viene trasformata in spettacolo e qui abbiamo appunto altre opere come per esempio questa sulla sinistra in basso che invece è fatta appunto da un artista nero come anche questa al centro e questo appunto rappresenta questo a sinistra l'opera di Henry Tyler che racconta di questo signore Filando Castillo che viene appunto assassinato come vedete dalla polizia invece al centro c'è questa quadra di Lisa in Tintone che viene intervistata anche lei entra in questo dibattito perché lei nel 2012 aveva fatto un quadro sempre di M.Till come vedete con metà faccia ancora prima dell'attendato e poi con la faccia tutta tutta sfigurata ed lei appunto accusa anche lei la 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 di essere di non aver fatto un'opera non solo che non poteva farlo lei è un artista di colore la 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 ma anche di essere un quadro decorativo cioè dove e anche lì ci sono delle posizioni diverse alcuni dicono la foto è meno forte del quadro della dana schutz mentre quest'altra artista dice invece io ho fatto un quadro che veramente rappresenta la tensione mentre il quadro della schutz non solo non si può appropriare della della sofferenza dei neri insomma eccetera ma che è un quadro decorativo che non da dove non vedi la sofferenza insomma che si esprime la schutz si difende dicendo ma io anch'io sono una mamma dei figli io dipindo questo quadro da un punto di vista di essere una madre che cosa vuol dire sentire che viene perdere perdere un figlio perché open casket perché la madre di Emmett Till quando appunto Till poi viene ritrovata e viene messo viene portata e viene messa nella barra la lascia esposta con la barra aperta per diversi giorni per far appunto vedere la tragedia per accusare i responsabili della di questo fatto allora tutto questo cosa qui che appunto ovviamente in alcuni posti assumono un carattere di questo tipo in alcuni no per esempio in questo museo del Whitney che nel piano di sopra c'è la collezione permanente dove è esposto per esempio questo quadro che vedete sulla destra questo è un quadro di Eric Fischle ed è un quadro del 1983 vedete è un quadro che ha due rappresentazioni all'interno del quadro uno è una spiaggia di vedete il titolo è vista verso le slash vista dalle isole allora qui a sinistra un gruppo di bianchi al sole nella spiaggia in vacanza contenti e questo è un gruppo come di migranti sulla destra allora la domanda è ma scusa allora secondo il loro pensiero Eric Fischle avrebbe dovuto praticamente dipingere solo questa metà di sinistra del quadro la metà destra non poteva dipingere perché ci sono delle persone di colore ma questo è proprio come dire è una allora Aruna di Sousa questa è interessante ricordo però che quando difendono il diritto di Schuss di dipingere quello che gli pare e piace sono gli stessi che firmano una petizione affinché il Guggenheim tolga un video di una lotta tra cani in una mostra d'arte da quel commento sprezzando l'artista pastiche Lumumba che da nome si vede che è un artista africano per cui negli Stati Uniti ci si preoccupa più del destino dei cani anche delle black people quindi sono delle questioni molto controverse perché il problema non è solo all'interno delle dittature come abbiamo visto o comunque di periodi di assolutismo come nel passato ma è anche all'interno delle democrazie che le censure vengono attuate insomma diciamo la posizione più interessante tra centinaia insomma sia nei media generalisti per esempio la stampa i giornali in Italia sono occupati a Corriere della Sera a Repubblica sono 24 ore che nelle reviste specializzate tipo flash art insomma art forum eccetera ecco Cocofusco che dice che è un artista cubana di colore nera dice c'è una tensione profondamente puritana e anti intellettuale nella cultura americana che si esprime anteponendo il giudizio morale alla comprensione estetica perché poi questo è uno dei centri del punto del dibattito mettere davanti l'identità perché se noi allarghiamo questo discorso è come se un non ebreo non può parlare fare un quadro scrivere un libro quello che volete su la Shoah su i campi di concentramento insomma queste cose qua prendere atto continua la Cusco prenderne atto equivale a difendere la whiteness come ha suggerito la critica a Ronald Sousa che è quella che abbiamo letto prima è una difesa delle libertà civili è un appello di civiltà trova allarmante ed è tutto avventato chiedere la censura e la distruzione di un'opera d'arte poca importa quale sia il suo contenuto o chi l'abbia realizzata ci può capitare in quanto artisti di essere ed essere umani di imbatterci in opere d'arte che non ci piacciono e troviamo offensive possiamo considerare come indicatori di un privilegio razziale di genere e di classe a me capita spesso di farlo e poi lei è un artista di colore ma presumere che gli appelli alla censura e alla distruzione costituiscono una risposta legittima all'ingiustizia percepita ci porta su un senziero molto muio Anna Black riferita a quella appunto attivista scrittrice che chiede di distruggere chiedeva di distruggere l'opera di Donna Schutz Anna Black e compagnia si stanno mettendo dalla parte sbagliata della storia al fianco dei fondamentalisti religiosi che vietano le opere d'arte in nome del loro Dio e poi lei continua tirando anche i supremacisti bianchi insomma c'è nel senso per dire quindi poi visti che abbiamo parlato di questo peccato animale ecco che è un altro artista che viene continuamente censurato e questo soprattutto appena si sa che lui fa una mostra che deve fare una mostra arrivano soprattutto gli animalisti i vegani insomma a contestare le mostre di Nietzsche che è un artista che utilizza animali con delle performance in cui ci sono degli animali squartati macellati e come vedete fanno una sorta di performance sacrificale no? in cui l'animale squartato viene appoggiato su un uomo e si incroce quindi c'è tutta una una simbologia cristologica insomma orgiastica e anche una ritualità che arriva nella notte dei tempi ora Nietzsche fa queste cose dagli anni 60 però queste contestazioni sono cominciate ad arrivare negli anni 90 anni 2000 prima nessuno diceva niente perché appunto i tempi voglio dire appunto sono cambiati questa invece è un'opera di Jan Fabre ad Anversa che venne molto discusa molto dibattuta una mostra che si chiamava Over the Edge negli angoli che era curata da Jan Nutt e da me in cui c'erano 59 artisti invitati nella città a fare delle opere d'arte Jan Fabre scelse questo porticato dell'università di Ghent che rivestì vedete sembra marmo ma in realtà sono delle fette di prosciutto sono migliaia e migliaia di fette di prosciutto e poi intorno c'è il domopack per tenerla qui vediamo all'inizio a sinistra c'è questo tono più rossiccio a destra questo tono che va verso la putrefazione insomma un'opera viva metamorfica come succede per Jan Fabre ma anche un'opera che per esempio questo mima attraverso questi fette di prosciutto tu lo vedi da lontano ti sembrano delle colonne di marmo rosso con le venature bianche insomma come conosciamo quindi da subito ci furono le manifestazioni con i cartelli urla grida questo non è arte questo è uno spreco di cibo sei un criminale insomma eccetera e poi Janot venne chiamato a difendere quest'opera comunque a parlare di quest'opera a spiegare insomma la tv belga e disse praticamente quando l'arte si appropia di qualcosa della realtà questa la realtà non è più tale ma diventa un'altra cosa cioè arte come ci insegna il quadro di René Magrette se si ne paia in pipa questo non è non è una pipa è all'interno di questa poetica che si iscrive il lavoro di Jan Faber Magrette come sapete è un artista belga quindi teneva tutto all'interno della tradizione queste sono altre opere di Jan Faber in cui lui utilizza degli animali vivi o morti che però non è che lui li ammazzi questi animali li prende quando sono già morti insomma a vista si sono degli schede di cani ci sono esposti nella Biennale di Venezia alla Bazzia di San Gregorio insieme nel 2017 perché lui si identifica con questi animali randagi che ritiene praticamente l'artista modello dell'artista dice come l'artista quando è famoso tutti gli fanno dietro poi quando perde questo questo livello praticamente tutti la abbandonano tutto lo rifugono come appunto fosse un grande randaggio e poi all'interno ci sono dei cappelli a cono e degli altri elementi che ricordano appunto come vedete qua in queste piccole immagini sopra degli elementi delle opere di Bosch perché Faber è tutto collegato con la tradizione dell'arte antica dell'arte antica belga dove il cono sul cappello sulla testa la forma di cappello che sia un imbuto rappresenta la figura dell'idiota infatti in quello sinistro si chiama la cura della follia appunto è un'opera che sta al prato di Madrid dove c'è un dottore con questo imbuto in testa che sta a prendere la testa di un paziente potere mediatico allora questo qui è il manifesto e ritorniamo a Canova che appunto Irene Longo e Laura Casarsa che lavorano per il museo di Gipsoteca Museo di Possagno quando si vede lo censurare dalla Facebook le immagini di Canova che avevano postato per comunicare insomma il museo scrissero appunto e produssero dei manifesti sia un manifesto scritto come nella tradizione dei manifesti d'avanguardia perché i manifesti d'avanguardia sono dei testi scritti non sono dei poster delle immagini ovviamente sono dei manifesti in senso di programma che trovano l'ascendenza nel manifesto del Partito Comunista cioè dove c'è un programma che viene chiamato manifesto di cose che bisogna fare di azioni che bisogna fare e così il manifesto dei futuristi insomma sono una serie di azioni di posizione che bisogna prendere nella vita c'è qualcuno che bussava voleva dire qualcosa e quindi scrivono questo manifesto contro appunto questo strapotere mediatico la diffusione della cultura della bellezza di una scultura nuda e come vedete il modo il linguaggio che loro adottano è il linguaggio del manifesto del futurismo come vedete assertivo della storia il mondo si è arricchito di una bellezza nuova la bellezza della connessione invece appunto i futuristi parlavano della bellezza della macchina della velocità ogni giorno ci connettiamo scarichiamo informazioni insomma e così via quindi vanno avanti non vogliamo sottometterci alle leggi dell'algoritmo alle leggi superiori della produzione aurea insomma e così noi vogliamo la libertà di pubblicazione non ci fermeremo fino a quando non l'avevamo ottenuta e queste erano le opere insomma che avevano postate queste vedete che vengono censurate in quanto ritenute oltraggiose quindi creano questo manifesto che si ispira se vogliamo a un artista anche americano che è la Barbara Kruger che utilizzava queste fasce rosse con la scritta bianca e siamo sempre negli Stati Uniti e loro sono sempre avanti come vedete e queste sono delle immagini questo è un quadro di Picasso a sinistra le donne di Algeri che viene venduta all'asta per 179,4 milioni di dollari una bella cifra un bel malloppo e allora ovviamente i media si possessano di questa notizia danno questa notizia e qui vediamo il telegiornale della Fox danno la notizia di questa vendita di questo record però le immagini vedete che vengono censurati vedete la donna a sinistra in primo piano gli viene sfumato il seno e a quella dal centro anche gli viene sfumato il seno come vedete e quindi c'è un'azione di censura di parti del corpo anche qua viene sfumato il seno come vedete sulla donna di sinistra insomma e così via questa è una delle opere più censurate già da quando è stato dipinto da Courbet l'origine du monde l'origine del mondo che poi ha girato per vari adesso si trova al museo d'Orsay ha girato per vari collezionisti tra cui anche il grande psicanalista Lacan che però lui lo teneva coperto con una tendina per non farlo vedere insomma perché Lacan come diceva nelle sue massime ciò che parla in silenzio è il corpo e questo appunto parlava da quando era stata fatta nel 1886 allora qui ci sono delle persone che hanno postato questa immagine o nel loro profilo o perché avevano scritto qualcosa sull'arte e ovviamente Facebook le ha le ha censurate ci sono state delle cause praticamente a questo signore di Copenhagen hanno addirittura chiuso il profilo e poi dopo c'è stata tutta una causa poi gli hanno riaperto il profilo però togliendo questa immagine non gliel'hanno lasciato questo sempre riguarda internet opere che sono state censurate quella a sinistra è la donna che scende le scale il nudo che scende le scale di Gerard Richter uno dei massimi pittori viventi tedesco che nella sua grande mostra a Pompidou praticamente il San Pompidou aveva utilizzato alcune immagini tra cui questa per pubblicizzare la mostra di Richter e questa poi gli è stata censurata come anche questo nudo di Eduard Weston che è una fotografia di Tina Badotti una grande fotografa italiana di Udine che poi si era trasferita in Messico era appunto amica dei rivoluzionari messicani e così via e sulla destra praticamente è una opera di Fabio Mauri che appunto è stata censurata più volte anche a me è capitato l'avevo esporto al museo alla GAMEX di Bergamo quando la dirigevo e postammo questa immagine per pubblicizzare la mostra di Fabio Mauri e anche qui la censurarono ma in questo caso non la censurarono perché lei ha una stella ebrea dipinta sul petto e sopra il seno la censurarono perché è la donna nota non tanto per la stella di Davide questo sono appunto Goldsmith e Chiari una coppia di artiste italiane una romana e una di Milano che lavorano insieme questo è un lavoro che loro hanno fatto ce ne sono molti più di queste foto sulle stragi italiane riconosciamo in questo caso soprattutto la piazza della Loggia questo lo fecero appunto in in occasione di una di una mostra è Renato Corsini direttore del MACOF che è questo museo della fotografia che era appunto arrivato in piazza quando ci fu insomma l'attentato interpellato su queste su queste fotografie su queste opere e disse non credo che l'arte debba essere sempre giustificata ma non credo nemmeno alla censura ovvio che ai parenti delle vittime possa aver dato fastidio fastidio condannare l'artista però sarebbe come condannare Cialdo cioè nel senso c'è queste artiste come in altri casi non è che fanno queste opere per offendere qualcuno lo fanno invece per tenere viva la memoria su certi su certi fatti e che ritorniamo a bomba sempre sul corpo classico e stiamo concludendo qui abbiamo appunto sono delle statue che si trovano nei musei capitolini di Roma una delle questioni più dibattute qualche anno fa come vedete qui nel 2015 era presidente del consiglio Matteo Renzi anche lì scoppiò tutta una una discussione perché avevano oscurate con queste scatole come vedete alcune statue di epoca greca romana con corpi nudi di uomini di donne soprattutto perché appunto c'era il presidente ruanile dell'Iran che era in vista e lo portavano insomma a fare questo giro e lì sono andate anche diverse posizioni quelle di noi ci siamo piegati appunto all'Islam eccetera eccetera ma se loro vengono nel nostro paese si devono rispettare le nostre abitudini non è che noi dobbiamo piegare insomma la loro cultura altri invece hanno visto questa cosa non tanto come una cosa morale per la religione islamica eccetera ma per proteggere politicamente Rouhani perché perché c'era stato nel 2007 Mohammed Katani che era stato presidente ministro del primo ministro dell'Iran a sua volta che era venuto in una visita in Italia e salutò delle persone passando in mezzo alla folla stringendo le mani lo strinza delle donne che è vietatissimo per la cultura islamica come le corponute soprattutto corponute della donna e ovviamente le immagini di quelle strette di mano con le donne fecero il giro del mondo e gli oppositori di Katami che era un progressista all'interno diciamo del governo islamico venne subito attaccato sui media locali quindi utilizzarono questo strumento come strumento di lotta politica quindi ci sono insomma queste cose qui allora praticamente quindi che facciamo allora facciamo chiudiamo con questo racconto siamo nella GAMEC di Bergamo che ho vissuto in prima persona nella mostra appunto che abbiamo fatto che si chiamava War is Over allora noi a Bergamo abbiamo creato questo gruppo di mediatori culturali perché il problema poi è anche la censura anche rispetto a quale cultura insomma come funzionano le cose però la cultura ci può aiutare se viene mantenuta libera più di altre a cercare di 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 creare il dialogo come diceva Coco Fusco che abbiamo citato prima e allora qui siamo nel nel 2007 noi abbiamo creato questi mediatori culturali che sono guide di varie etnie in questo caso lei è iraniana libanese ha quattro lauree insomma eccetera eccetera però ecco e racconta in un'intervista la vista al museo che portava e questo vale la pena di leggerlo la mia prima vista in GAMEC l'ho fatta per 15 donne arebe marocchine tutte alla loro prima vista in un museo ho dovuto andare a prenderle e accompagnarle già durante il tragitto sentivo la loro agitazione e curiosità all'arrivo il personale della GAMEC è stato meraviglioso ci mancherebbe altro questo lo aggiungo io le ha accorto molto bene e si sono sentite al loro agio sentivo la loro agitazione svanire mano a mano che la visita proseguiva tutto era bello tutto nuovo tutto meritava la loro attenzione ma davanti all'opera di pistoletto quella che abbiamo visto prima degli stracci le donne sono rimaste impietrite in un primo momento mi raccomandavano di non dire niente ai mariti ma dopo un attimo di imbarazzo la complicità femminile si è fatta avanti e sono cominciati gli scherzi e il divertimento vero e proprio è come se questa opera le avesse fatte sentire al loro agio strano ma vero sono ritornato a casa contentissimo mi hanno ringraziato molto le mail di complimento che ho ricevuto anche da alcuni educatori mediatori e fornitori che nel momento della visita sono rimasti colpiti dall'espressione di felicità delle donne mi hanno reso otteneramente contenta perché l'hanno descritto come una visita storica queste donne sono tornate altre due volte in museo una volta anche con i mariti e una volta da sole e con questo finisco la mia esposizione la mia conferenza che è una messaggio comunque di speranza no? fammi disconnettere la ecco adesso non c'è più la ci siamo solo noi quindi è giusto ci vediamo solo noi non si vede più appunto il powerpoint quindi adesso dopo questa cavallecata su problemi della censura la libertà di espressione eccetera eccetera Irene se tu vuoi aggiungere qualcosa come se ne possiamo chiamare i videotori i computeratori quelli che vedono che ci vedono ci seguono attraverso il computer i follower hanno delle domande da fare delle considerazioni insomma ci siamo? potete mandarmi anche i messaggi su whatsapp che vi rispondo li leggo e poi vi rispondo allora c'è qualcuno che vuole a quanto pare a qualche problema di posizione questa sera non so se adesso mi sentite bene adesso ti sentiamo benissimo perfetto allora mi dispiace per l'inizio ma insomma mi hanno detto il bello della diretta va bene così io innanzitutto la ringrazio le dico che i commenti che stiamo leggendo qui sotto il nostro voglio dire la nostra diretta sono tutti molto positivi ci stiamo dilungando molto però c'è una domanda che fa una 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 Marta 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 che ci sta seguendo e dice appunto come vede lei l'abbattimento delle statue di Cristoforo Colombo e Jefferson Davis negli Stati Uniti nel corso delle proteste seguita la morte di George Floyd beh intanto non bisogna non è che dobbiamo andare fino negli Stati Uniti perché anche noi abbiamo avuto eh anche se non legata al problema razziale ma indirettamente sì eh eh in Italia con la strada di Montanelli no? la stessa eh eh problema simile insomma eh e quindi è un problema un problema aperto allora come lo vedi io cioè la vedo che secondo me non è che serve tanto comunque però queste sono cose che sono successe nella storia è come la storia degli animali che si diceva prima sono quelli che eh difendono la libertà dell'artista di fare quello che gli pare eh quando si parla per esempio del quadro del ragazzo che dipinge un personaggio di colore e mentre poi si scandalizzano per un video che dove ci sono degli animali maltrattati o comunque eh così via quindi dipende ovviamente dai contesti dai momenti storici eh infatti nessuno ha detto niente per esempio eh sul fatto prima abbiamo parlato del comunismo nazismo insomma eccetera di quando è finito il comunismo sono stati abbattuti dalle statue di Stalin di sempre anzi ci diciamo l'Occidente liberale diciamo tra virgolette era contento insomma non ha fatto non c'è stata una come dici un'alzata di scudi nei confronti di queste statue eh di Stalin di Lenin insomma eh oppure quando si fu durante la seconda guerra mondiale di Mussolini insomma e così via lì ovviamente si stanno abbattendo dei simboli e si stanno abbattendo dei simboli che nel 99% non sono delle opere d'arte cioè nel senso che eh spesso questa ehm queste statue sono fatte da artisti senza offesa per nessuno ovviamente ma che non non sono eh diciamo artisti significativi per lo sviluppo dell'arte eh eh dell'arte quindi dal punto di vista artistico non hanno diciamo eh diciamo nessun valore è chiaro che io non l'avrei eh non l'avrei non l'avrei non l'avrei abbattuto anche perché non risolve niente ma questo in America è un punto culminante che non è che riguarda solo la questione di eh legata agli ultimi fatti di Floyd e altri che sono stati insomma giustamente ammazzati ma è una cosa che è sul piatto eh da diversi da diversi anni ma eh che non riguarda solo ehm il discorso sulle sulle culture eh ma anche su sulle culture dal punto di vista etnico ma anche dal punto di vista per esempio politico religioso per esempio ci sono delle università in cui ci sono state delle proteste eh e hanno rimosso dalla biblioteca eh eh i libri di Ovidio perché considerate perché come sapete le metamorfosi di Ovidio è un libro d'amore insomma dove si parla anche molto di sesso di stupri insomma di cose che allora sembravano normali insomma eh voglio dire e e quindi però oggi questo costituisce un problema allora questi studenti hanno fatto delle proteste hanno fatto rimuovere questo libri un po' come censurare appunto le sculture di Canova insomma cioè noi non vedremmo mai questi questi libri e qui non riguarda per esempio un problema razziale riguarda un problema che riguarda il rapporto con con la donna con con il femminismo insomma con la violenza sulle donne insomma e così via che però ovviamente non è che che risolvi togliendo i libri di Ovidio o di o di un altro insomma da grandi classici così questo è all'interno di una riscrittura che si sta tendando nella nel mondo soprattutto americano che è quello anche sul fatto che perché nelle università noi dobbiamo studiare Platone che ci importa a noi di Platone soprattutto quelle di etnie nere non fa parte della nostra storia a noi non ci interessa questa cosa e quindi c'è un dibattito c'è anche sul piano religioso sono delle università che hanno vietato di studiare per esempio Darwin perché sono università cattoliche molto radicali che praticamente insegnano dal punto di vista del creazionismo cioè il mondo non è un mondo della natura che la natura ha creato da se stessa come teorizza appunto Darwin e dal Big Ben insomma tutte queste cose qui ma è una è una è una cultura che ha creato Dio il mondo è stato creato da Dio allora si vieta di studiare chi sostiene il contrario quindi l'America da questo punto di vista è un laboratorio insomma pazzesco insomma così e così appunto non è anche la stata di Montanelli la stata di Montanelli in Italia è legata anche a un problema razziale il fatto che lui appunto aveva sposato questa bambina di 13 anni 12 anni e Dio penso a me non ha mai chiesto scusa insomma queste cose queste cose qui però io che questa stata doveva essere rimossa io lo dicevo molto prima ma nel senso ma non perché perché è brutto proprio come è stato cioè non è una bella opera d'arte insomma e a volte sono simboli più che opere d'arte appunto come diceva lei che hanno un valore più culturale e di tradizione forse però è chiaro che non è giusto poi imprattare una volta che qualcuno ha deciso che si fa che si mette ma per esempio una cosa che nessuno ha notato che non si dice mai allora se voi mettete andate su google mettete Milano Piazza Roma o Via Roma non esiste a Milano una Via Roma o una Piazza Roma come la spieghiamo? che ci sono ma non è una cosa di adesso è una cosa di sempre cioè c'è via Trieste c'è via Venezia se non c'è via Roma o Piazza Roma ah ecco non avevo mai mai impiegato questo questo aspetto la prossima volta che torno via allora vogliamo costruire un pieno anche su questo boh ci saranno dei motivi per cui non lo so insomma adesso scadere un po' di ferio allora abbiamo visto in queste due in queste due c'è qualche altra domanda? per caso? no non ci sono tutte domande sono le sette e mezza passate dopo aver spazzinato la fame di cultura la fame di sapere adesso dopo lo spirito il corpo dopo la mente anche il corpo no Alessia fa un commento che è interessante no? il politicamente corretto invade e travolge anche l'arte è tutto molto fragile ma vabbè ma che siamo che siamo fragili si sa però ovviamente noi non è che possiamo vietare come si chiama uno che ci critica perché ovviamente come diceva Voltaire con cui abbiamo appunto iniziato una sua frase su questa diciamo parte cioè io posso non essere non d'accordo con la tua opinione ma mi difenderò lotterò fino alla morte per far sì che tu la possa esprimere assolutamente questo è il senso perché diventa un momento di discussione non deve essere un momento di censura è chiaro che non possiamo pensare che tutti la pensano nello stesso modo certo dobbiamo comunque garantire il pluralismo e il rispetto delle opinioni in tutte le sedi voglio dire per esempio su questa cosa del problema di Nere che dicevamo prima forse non lo ricordate ma quando uscì quel film stava per uscire il film di Tarantino Junko Unchained e praticamente mentre lui stava girando questo film Spike Lee se ne uscì fuori quindi molto prima di questo quadro che abbiamo parlato di Anna Schultz col fatto che lui non poteva fare un film sul problema dei neri perché era un bianco però Tarantino che è come i suoi personaggi dei film per lui fa questi film molto violenti lo mandò col paese ovviamente però è un problema che sapete se l'avete visto questo film ci racconta di questa storia di ventetta di questo pistolero di colore che viene presentato come un eroe in questo film non viene presentato come uno schiavo come un uomo libero che va a liberare va a vendicare però appunto ci sono dei neri radicali che dicono che il problema è del radicalismo alla fine come abbiamo visto con quella racconta della mediatrice appunto dell'agame che in realtà il fondamentalismo è quello che vieta le cose ma poi le persone normali di qualunque cultura quando si confrontano capiscono e l'accettano non è che perché anche noi per esempio nella parte della Sicilia oggi sbarcano però c'è stata la dominazione arabe e tante cose che che noi percepiamo come cose italiane oggi sono italiane ma che si sono innestate su una parte della cultura araba che si è fusa con quella greca e così e via dicendo quindi al confronto ci si arricchisce e vietare non porta a niente bene non ci sono altre domande non ci sono altre considerazioni complimenti come ve le dicevo sono molto numerosi nei commenti io la ringrazio per averci portato alla scoperta di questo argomento davvero molto molto interessante come abbiamo visto o sempre attuale continuerà ad esserlo io do appuntamento a tutti gli utenti che ci stanno seguendo ai nostri follower ovviamente sulle nostre pagine social ogni settimana proponiamo dei contenuti sui nostri vari canali e speriamo appunto che continuino a seguirci ancora numerosi io ringrazio ovviamente il professor Giacinto di Pietrantonio grazie a voi grazie a te grazie a te molto belli molto interessanti lo dico per chi lo chiedeva prima li trovate sulla nostra pagina facebook sia l'intervento di oggi che l'intervento della scorsa settimana sia su facebook e salvato anche quello della settimana scorsa anche su youtube quindi rimangono sempre a disposizione della community in maniera che insomma che tutti possiamo godere ancora di questo contenuto perché immagino che alcuni magari chi si è perso una parte dell'intervento possa recuperare quindi grazie a tutti e buona serata arrivederci